signore scusami se non ti prego da una pala d'altare ma ho scelto un posto nella natura nel verde nel silenzio io non ti ho mai chiesto niente solo una preghiera una preghiera su mi vuoi dire quando quando andrà in onda il mio format nel palinsesto di telebari grazie